Attenzione, avvisiamo che dalle ore 22 di lunedì 22 luglio fino alle ore 6 di venerdì 26 luglio per lavori di ripristino dell'infrastruttura, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Vallo della Lucamia e Sapri della linea Napoli-Reggio Calabria. Siamo alla stazione di San Severino di Centola dove questa mattina sono avvenuti accertamenti tecnici non ripetibili sulla configurazione dei binari. Abbiamo ascoltato le parole dell'avvocato Franco Maldonato, difensore di due dei cinque indagati. Si è trattato di un accertamento irripetibile del quale tuttavia noi siamo stati costretti a contestare la ritualità in ragione dell'affidamento, del medesimo accertamento ai tecnici di rete ferroviaria italiana che non sono figure professionali estranee al procedimento, essendo rete ferroviaria datrice di lavoro di almeno tre indagati su cinque e rivestendo all'evidenza la posizione di responsabile civile nei confronti di tutti coloro che domani dovessero articolare domanda di risarcimento danni nei confronti degli indagati e della stessa rete ferroviaria italiana. Per questa ragione abbiamo formulato riserva di incidente probatorio che ove nei dieci giorni successivi dovesse essere seguita per parte nostra ovviamente dalla richiesta di incidente probatorio in vista della nomina di un collegio consulenziale esterno indifferente rispetto alle parti coinvolte ridurrebbe l'accertamento ad una modalità di acquisizione della prova non valida ai fini del futuro dibattimento. Nel merito mi pare che possa dirsi emersa l'evidenza preponderante di quella che io molto ragionevolmente con l'ausilio del mio consulente tecnico ritengo potersi identificare come la causa del sinistro e cioè la mancata costipazione del pietrisco che è il risultato del tutto carente fino al punto da non poter neanche parlare forse di rituale addensamento granulometrico nel senso che è mancato il rimpiazzo del pietrisco che avrebbe dovuto conglobare solidificare la base d'appoggio delle traverse su cui riposano i binari e infatti lo svio come dicono gli addetti ai lavori o il deragliamento come dico io è avvenuto proprio in coincidenza della intersezione tra la fine del tratto sprovvisto della necessaria dotazione di pietrisco e l'inizio del tratto vetusto da risanare.